L'analista tecnico prevede i prezzi futuri del mercato, come uno stregone, come un Gandalf del Signore degli Anelli. Prevede il futuro, è l'unico modo per fare profitto. Ma è veramente così? In questo video parliamo di che cos'è l'analisi tecnica, a cosa serve e come iniziare ad utilizzarla, su quale piattaforma iniziare a fare le proprie analisi di trading. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Mauro Caimi, oggi un video di formazione per chi è alle prime armi relativamente al trading e vuole capire che cos'è l'analisi tecnica, come si usa e qual è il suo vero scopo e poi ancora di più, learning by doing. Dove vado a iniziare a fare analisi tecnica? Quale piattaforma per principianti, per persone che vogliono semplicemente studiare, quindi iniziare a fare le prime analisi, a tirar giù le prime trendline, i primi indicatori, a scoprire insieme questo mondo? Dove vado a fare queste analisi? Tutto racchiuso in questo video, ragazzi, che è il primo di una serie di lezioni che faremo sull'analisi tecnica, cercando di inquadrare il suo vero scopo, la sua vera funzione nell'epoca moderna. Sì, perché l'analisi tecnica ha subito diversi, diversi movimenti, diverse fluttuazioni ed evoluzioni nel corso del tempo, da quando è nata. Quelli che sono gli indicatori utilizzati nella modernità sono molto diversi da quelli che, per esempio, ritroviamo su libri di analisi tecnica del 1990, perché i mercati evolvono e con l'evoluzione dei mercati dobbiamo anche far evolvere i nostri strumenti di azione, i nostri strumenti bellici da battaglia, cioè appunto quelli dell'analisi tecnica. Quindi in queste lezioni parleremo di analisi tecnica moderna, cioè, ragazzi, funzionale a quello che serve a noi. Ma prima di fare ciò vi chiedo di iscrivervi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, per non perdervi questi video, soprattutto se siete neofiti, poi lasciatemi un pollicione perché mi fate capire se vi piacciono questo tipo di video più formativi e, come sempre, ragazzi, nei commenti fatemi sapere le vostre domande, quello che pensate. Se qualcosa non vi è chiaro, scrivetelo nei commenti. Che cos'è l'analisi tecnica? L'analisi tecnica è lo studio dei movimenti di prezzo di uno strumento finanziario. Prendiamo, ad esempio, uno strumento finanziario, ragazzi, come può essere il petrolio, oppure bitcoin, oppure l'euro contro il dollaro. Lo prendiamo e l'analisi tecnica ha questo scopo, questa funzione. cercare di studiare il grafico di questo strumento finanziario per prevedere gli eventuali movimenti di prezzo di questo strumento finanziario. Immaginate bitcoin che passa da 9.000 dollari a 10.000 dollari. Lo studio, l'analisi tecnica, che è anche definita AT, ragazzi, serve a cercare di prevedere quando avverrà questo movimento, da 9.000 a 10.000 dollari. Come ottiene questo obiettivo? Lo ottiene studiando i prezzi su un grafico. In pratica, i prezzi, ragazzi, di uno strumento finanziario li possiamo anche mettere in lista, come una lista su Excel, se avete presente, oppure li possiamo graficare, si dice così, cioè vedere i movimenti su una linea. In questo caso, l'analisi tecnica usa il grafico per fare i propri compiti, fare le proprie analisi, studiare le eventuali probabilità del movimento di prezzo. Ed usa dei metodi di natura grafica, quindi linee, triangoli, rettangoli, lo vedremo comunque in queste lezioni, oppure utilizza dei metodi statistici, quindi degli indicatori statistici come le medie mobili, che sono create appositamente per essere uno strumento dell'analista tecnico per prevedere movimenti di prezzo. Passiamo al nostro secondo punto. A cosa serve, ragazzi? L'ho già detto nella definizione. Se qualcuno di voi ci ha fatto caso, io ho utilizzato più volte la parola prevedere, perché questo è il punto di cui parliamo oggi prima di passare a vedere quale piattaforma andare a utilizzare per i neofiti. L'analisi tecnica non prevede il futuro, ma prevede l'oscillazione di prezzo, quindi un movimento di prezzo, con una certa probabilità. Probabilità è la parola che vi dovete stampare in testa Per non confondervi, questo è uno dei più grandi dilemmi degli analisti tecnici che non vengono compresi, perché non si comprende il mondo in cui operano. L'analisi tecnica opera nel mondo aleatorio. Aleatorio significa un mondo dove non ci sono certezze, ma solo probabilità. È come se io dicessi domani pioverà con la probabilità del 15%, oppure dicessi domani ci sarà il sole con la probabilità del 90%. Noi siamo in un mondo aleatorio, quindi non abbiamo la certezza che un evento capiterà, ma semplicemente andiamo a calcolare il meglio possibile le probabilità. Quindi a cosa serve l'analisi tecnica, ragazzi? A portare le probabilità a nostro favore. Andiamo a studiare il grafico, quelli che sono i movimenti del prezzo, per cercare la strada più probabile. A noi interessa quale strada può prendere un prezzo di uno strumento finanziario in maniera più probabile. Quando io ho il 60% di probabilità che il prezzo del petrolio domani sale dell'1%, secondo i miei studi di analisi tecnica, io posso decidere di giocare quella partita. Ma ricordate, è solo il 60%, non il 100%. L'analisi tecnica non prevede il futuro, studia lo scenario più probabile. Se vi stampate in testa il concetto di probabilità e di aleatorietà di questo mondo, allora avete già capito l'80% di quello che è il tema dell'analisi tecnica, di quello che fa l'analista tecnica. Avete già la mente aperta, ragazzi, open your mind, come dico sempre, e siete già perfettamente instradati nel modo corretto su questa materia. Fondamentale questo concetto, ragazzi, ok? Probabilità, non certezze. Bene, a questo punto dobbiamo parlare della piattaforma, perché, ragazzi, bastano semplicemente due definizioni per iniziare a fare analisi tecnica. Ovviamente no, dovremmo studiare tanti libri, ma io sono un fautore, sono un sostenitore del learning by doing, quindi di imparare facendo, ragazzi, perché è l'azione che vi fa stampare in testa tutti i concetti, anche per questo ho creato l'Academy di Trading On. Ragazzi, per chi fa i miei corsi di formazione, passa l'azione istantaneamente in Academy, quindi ci buttiamo direttamente sulla piattaforma che utilizzeremo, e poi da lì, pian piano, in queste lezioni, iniziamo a studiare anche gli indicatori, gli scenari, e come si applica l'analisi tecnica moderna per vincere, ragazzi, alla fine, per fare profitto, per ragionare e ottenere profitto sui mercati. Quella che utilizzeremo è TradingView, ragazzi, quindi basta che andate sul sito tradingview.com, vi lascio il link in descrizione della piattaforma grafica TradingView. Io sono già registrato, quindi mi vedete qui, ragazzi, per cui questo è già il mio profilo, se non siete ancora registrati, basta fare la normale registrazione. TradingView è gratuita quasi per tutti, quindi ci sono degli strumenti gratuiti che potete utilizzare tranquillamente, per esempio basta non esagerare, ecco, con gli indicatori da mettere, quindi in questo momento vi serve semplicemente la piattaforma gratuita, non è necessario avere la premium se non volete poi fare tante cose, tanti indicatori, eccetera, quella magari in un secondo momento, quindi basta registrarvi alla piattaforma, questa è la schermata che vi trovate davanti, ragazzi, con delle idee di trading, ma a noi non interessa nulla di tutto ciò, se vi interessa andare su un grafico, quindi andate qui, grafico, cliccate, si aprono i vostri workspace, questo è un grafico, ragazzi, che ho già salvato io, quindi trovate i miei studi qui. Ecco ragazzi, allora qui siamo su Bitcoin di Binance, allora lo stiamo guardando su Bitcoin, la piattaforma TradingView, voi la trovate probabilmente in bianco, io ho impostato il tema nero, ma queste sono tutte impostazioni di colori, che sono utili tanto e non quanto, chi di voi volesse sapere come fare, poi scrivetemelo nei commenti, magari andremo a fare una lezione, proprio sulle impostazioni di TradingView, in alto a sinistra vedete, in questo punto basta cercare il nostro titolo, per esempio voglio cercare Apple, per vedere come sta andando, vedete che ci sono diversi strumenti finanziari con questo nome, bisogna conoscere lo strumento finanziario in questione, in questo caso Apple ragazzi è un'azienda quotata sull'Ansdac, ed è Apple INC, ok? quindi basta cliccare qui e abbiamo davanti a noi il titolo Apple, fantastico, quindi io ritorno sul mio Bitcoin contro dollaro di Binance, e basta ragazzi, allora questa è la piattaforma che utilizzeremo, e che vi consiglio di utilizzare se siete alle prime armi, e volete imparare analisi tecnica, sul lato sinistro troviamo anche una serie di strumenti, per disegnare trendline, angoli, linea orizzontale, le vedremo tutte queste cose, in queste lezioni di analisi tecnica, qui ci sono già due medie mobili che io utilizzo sempre, adesso le cancello, vi faccio vedere il grafico, l'analista tecnico ragazzi studia questo grafico, questo che vedete qui, fa dei disegni, ok? su questo grafico, per cercare di prevedere, con una certa probabilità, i movimenti di prezzi, sempre nel range dell'aleatorietà, quindi delle probabilità, e poi se volete per esempio, queste sono delle candele, delle rappresentazioni dei prezzi a candele, quella classica che troviamo anche negli studi, per chi di voi magari ha studi di matematica, statistica, è questa lineare ragazzi, quindi questa è la classica rappresentazione lineare, dei prezzi e dei movimenti, su questo grafico, costruiremo i nostri studi di analisi tecnica, bene ragazzi, per oggi è tutto, per questa prima lezione introduttiva, fatemi sapere cosa ne pensate, e fatemi sapere quali argomenti, per esempio, sono di maggiore interesse per voi, così potremmo approfondirli, in queste lezioni di atti di analisi tecnica, per oggi è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao! Grazie! Grazie!